musica 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 ci spariamo un passatempo dobbiamo buttarci bene dobbiamo a terrare tutti in casa grande vi voglio tutti belli carichi Siiii Devo buttarvi piu'o meno un pelo prima del fiume Per atterrare la Bellissimo quest' older plan Si, non ho applied Luca per che stasera mi vedo con mia morosa E quindi, ho stremato adesso Ieri e' dopo? No, ieri ci hat visti solo il pomeriggio Raga io morirò sicuro Tieni la pistola Da dietro lo sapevo Eh madonna E' finito Mati Mati Raga io non so come Ma mi sono salvato Sono stato precisissimo Con la mitraietta Avete colpi pompa Mi servono per forza E colpi Mitraietta almeno Che ne ho 0 proprio Ah c'è uno qua Ci sono due qua dentro eh No ma l'ho fatta No no L'ho ucciso l'ho ucciso Bella Ali per il provino Scrivi il punto esclamativo Provini Ti verrà spiegato tutto Raga io sono veramente senza colpi Io ho 30 piccoli 7 pompa Io ho 2 pompa 0 piccoli E 6 ar E 6 ar Piccoli Serio io Quindi vediammi qua Eh riuscivi a venirmi contro Troppo un 2 Sì Bella bro Tutto il passo 2 Purtroppo il cavaliere nero No Non ce l'ho Infatti Ero arrivato a 10 Leveli del cavaliere nero Ho preso solo gli altri due cavalieri Purtroppo Anch'io Io solo Il cavaliere nero Non ho solo Io ero così felice Di giocare Floss Poi ad un certo punto Aggiornamento Ci sono 3 Ci sta Floss qual'è già? Come ballo scusa Che ballo è già? Qual'è? Eh È quello Con le mani che fa Da una parte all'altra Ah spazzolata Eh spazzolata Però se è nero Eh Ce l'ho io Mi sa Sì sì Sono quasi sicuro di averlo Oh guardala qua OG player Appena faccio il computer Nuovo Vorrei fare il provino Per il computer Scrivimi su Instagram Che ti aiuto un po' A cercare i I componenti giusti Non c'è mai gente Io ci ho proprio delle armi Di merda Eh pure io ci ho detto Copia di pompa Vai Vai saliamo sull'aereo Scriviamo l'aereo Flavio per i provini Scrivi punto Esclamativo provini Cosa facciamo con quell'aereo? Questa partita Spariamo con l'aereo Zero kill Ma perché? Anche io 19 Io tutto ancora 19 Uh distrutto Una terra È qua dalla montagna Rega Avete visto? È qua È bianco 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 Ok Bravo tu Tu lecce Non so dove si è finito L'altro Però quello che è tramortito C'è anche l'altro loot Eh copia di pompa Ce ne hai? Sì 12 in realtà Più o meno Eh rega Però c'era un altro loot Da prendere Ah ok Va l'altro Dove? Eh venite Copia di pompa Ce ne hai? Ma Perché mi sta costruendo così? Aiuto Ho 30 io Aspetta che poi andiamo Mitaetta verde Vabbè No raga Mamma mi lagga Digliela un po' Qua abbiamo una win da fare Eh avete colpi da R Che ne ho 50 Mamma Non abbiamo una win da fare Sì forse è un po' laggi Abbiamo una win da fare No Matti digli un po' Ho una win da fare Con uno youtuber famosissimo Io lo giudezio Ehi bro Oh why are you spamming to me? Ah adesso sto laggando io No No Nemi in safe Nemi in safe Rega Raga C'è l'aereo venito Ah è vero Ok ora con lei c'è barra a te Tanto che non puoi più spaccare le robe Vabbè No no Matti nemi in safe Nemi in safe C'è l'aereo No No C'è poi Non è fatta anche la deagle Spaccare i muri C'è il leg No la deagle Bella Al medin Che hanno fatto sta roba Sali sopra qua picco Ok C'è uno lì Guarda raga Guarda guarda Scendi 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 Bravi No Riffo Vabbè Raga è qua Raga è qua Raga è qua Raga è qua Raga vuole lo spazio Arrivo Ah dietro è dietro anche Ahia raga C'è il leggo Tipo come la merda Ma la leggo Ecco tutto giù Ecco tutto giù Ho questo Dov'è questo? L'altro qua Tutti danizzati Eh raga E' dietro E' dietro di te No mi sta sparando qualcuno Ok Ti ho vinto uccidi? Sì sì Fatti 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 Qua c'è Pino Mamma raggo Dai 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 300 Eri ping Guarda Scars Rega rega togliamoci di qua Stai arrivando un aero anche Ma c'è l'aero in teoria Ah in teoria Uh c'è una slurp la C'è una slurp la Matti vieni qua dartela Io sono full Arrivo Matti vieni qua Matti vieni qua Sì Grazie Ti lascio con uno scildino Io sono full Io sono full Io colpi Pompa 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 R se ne hai tanti Sì sì Pompa ne ho Io pompa ne ho 16 Pompa Non avete tanti Sì Rega leggo tutto dopo scusate ma Datemi il tempo di finire Sta partita qua Oh raga da dietro forse Aspetta Tieni 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 Sì sono qua Sono qua Sono qua Ah di caccia Sono qua Sono qua Sono qua da me Sono qua da me Davanti Senti Senti Una penetrata in safe Una a terra Ok bravo Sì Ma Ammassa Grazie Ah no Cazzo c'è No raga Che caga Eh proprio mancano 55 secondi Sono a sud est Gli altri Io c'ho una jump È sceso È sceso Vuole andare a luttarli Vuole andare a luttarli È ferito 27 Gli ho tolto 27 27 anch'io blu Intanto 90 Ok Ok Ucciso Ucciso Bella 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 No no Venisse 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 Ehm Ehm Luttarli Veloce 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 Vi porto qualcosa Qua anch'io C'è una jump Ah a parte che è una terapartita Che ci sta Io credo fosse già partita la serie Qua non c'è più l'aereo Dove è finita Oddio No dove è finito L'aereo ci serviva Adesso l'aereo Vado a vedere se lo trovi Eh no Eh ma Non so Non so Ce l'hanno distrutto Ma c'è l'intervento Un tizio Un tizio Un tizio 9 bombs Andiamo per 10 bombs Man Che bombe hai? 9 Ma perché non bisogna fare kill? 9 kill? Sì Ma non mi fate far niente Eh Gabbro non ne hai? Io ci sono 3 kill Cosa? Kill Ma che dici che non ti stiamo facendo fare niente? Una Allora E' solo Tanto sono sicuro sopra Il suo proprio picco Purtroppo Ah ma dove stai sparando? Ah lo so Ho 22 22 a un volo Minchia no L'ho missato di un pelo Voglio vedere questo supercettino Guardate Oh ragazzi c'è un aero qua C'è un aero qua Però è proprio distrutto questo Ma te mi sa che è nostro No 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 In realtà no no Non è distrutto No no Arriva Non so guidare sta roba Aspetta andiamo in un punto dove non c'è il ghiaccio E ci viene a prendere Vai vai sali 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 Oh 156 Dove 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 Sono a montagna 224 No non riesco a prenderlo il volo Ma l'ho vitto Sul l'aero guardate Da sopra Vai in alto vai in alto Vai in alto e poi ci droppiamo 3 2 1 Scendete Andiamo andiamo qua raga Non andiamo lì Non andiamo lì Non andiamo lì Venite qua Venite qua Dove sto non andando io Raga purtroppo io sono andato Eh ma c'è anche Anche altra gente Qua Massacrano in volo Eh vieni con io Ho sceldini Ho sceldini per te Riesci a salire qua gabbro Abbiamo gente attaccata qua eh Lo so le vissi le vissi le vissi Matt aspetta Troppo io sceldini a gabbro Non c'ho un faloio Però magari qualcuno ce l'ha Medikit no? Eh cazzo C'ho un medikit Che merda se sei qua raga Uccidilo così ti prendi la vita Oh no farlo uccidere il gabbro dov'è? Raga dovete Ok è morto è morto è morto è morto E raga pushiamo? Pushiamo questi qua Pushiamo questi qua i più vicini No è all'inizio c'è gente Ah nel ground Avete i mini? No Eh cazzo Aspettiamo ancora un attimo qua No io ho finito i mini Eh io c'ho Io non ho la vita 157 Eh razzi no Zero Ma c'è c'è un tizio qua 90 È caduto giù non ci credo Mi lasci la kill Perché sei aterrato Ma Che va cazzo raga Ma raga dov'è? Come non è morto scusate No ma forse è un botto di vita Spari 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 Feriti 33 Eh ma Raga killato uno Vieni qua da noi che c'è un tizio Da noi Vai pushalo Ma perché Perché dobbiamo fightare In sta merda di posto Raga copriti un deck Per favore Stando uno A te ti sparo C'è razia Quello di Sparo quanto Sparo Ok bella scusate Ok bravo No no Rimaniamo qua Mi fa prendere le robe Laddo 33 Laddo 33 Che è che 52 Una che è? Si faccio due mini Laddo 35 No però Lago mamma Basta Voi apposta Lascia 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 No perché mi fa buildare? Eh no Figa Guarda No 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 Martina Non giocare Ora qui Nervoso Raga sono scarsissimi Sembrano No 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 Però no no Lago troppo No raga Tu hai campionato qui dietro No raga Lacerato eh Raga ho lacerato Cappuccia Fato cadere C'è qualcuno che viene da me Raga è un'altra Spitta 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 Lui vuole finire No Sotto Dove vero cadere Dove vero cadere Bravo 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 Raga ne mette uno sotto Ok terra Sotto di voi Sotto di voi Sotto di voi 50 di vita Però io l'ho lasciato one shot Dov'è? Sotto L'ecco lì dietro In quella copia Bravo Bravo Gigi Aspetta Vieni qua 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 Boom raga Quanti kill totali? 20 20 Però 11 BAMS Boom 11 Ah beh Ah perché io qui bugazzi Alla me sono 24 Ah forse quelli atterrati Che poi hanno eliminato No lo so Alla raga Bella Bella win Questa Tutte le abbiamo Siamo arrivati secondi Così quindi Madonna Quattro win Win in salive Raga Quattro win Allora Ho già fatto tre win con Con Gib Posso fare un provino Marco per i provini Punto esclamativo Provini Quattro win Quattro win